quindi buongiorno a tutti di nuovo oggi in queste tre ore di lezione parliamo di alcuni argomenti in maniera abbastanza teorica quindi faremo un certo numero di seguiremo abbastanza le slide oggi per completare in un certo senso in le nostre applicazioni l'applicazione react che abbiamo costruito finora se pensate a quella dei task che avete nei laboratori ma anche pensate a quella degli esami che abbiamo costruito nelle lezioni e il nostro server quindi noi giusto per fare diciamo così il quadro della situazione noi al momento cosa sappiamo fare noi al momento abbiamo scusate la rozzezza come solito della grafica ma abbiamo la nostra applicazione react sia quella dei task sia quella degli esami sia un'altra non importa da una parte in cui abbiamo pieno controllo perché l'abbiamo fatta noi e sappiamo come si creano i componenti quindi ormai abbiamo una certa dimistichezza con react e dall'altra parte abbiamo il nostro server express che chiamiamo cola e in questo caso e che ha che è collegato ma nel nostro caso specifico è collegato a un database e espone dell'api che abbiamo creato l'altra volta la settimana scorsa dell'api http che rispondono a certi metodi certe chiamate http e restituiscono del json o accettano del json fanno poi delle operazioni quindi noi in questo momento siamo in questa situazione ora potete immaginare che la cosa che vogliamo fare adesso vogliamo iniziare quantomeno a fare adesso e far sì che questo signore qui react parli con queste piai qui in modo che qui dentro la nostra applicazione react non abbiamo più la lista dei corsi se pensiamo ad esempio dei corsi o la lista degli esami o la lista dei task se pensate al vostro laboratorio al vostro primo big lab come una variabile con dentro un array di oggetti ma andiamo a recuperare le informazioni dal server e andiamo a creare dei nuovi task creare dei nuovi esami recuperare le informazioni quindi creare modificare cancellare le informazioni rispetto a quelle che sono scritte appunto nel server per fare questo che sarà l'argomento di oggi di tutte le tre ore di oggi e anche con degli esempi e poi delle prossime tre ore continueremo con aspetti un pochino più avanzati diciamo così rispetto a questo argomento è un esercizio dedicheremo probabilmente due ore quindi buona parte in realtà della prossima lezione da tre ore a fare un esercizio continuando il nostro esempio sugli esami e sui corsi per far sì che questi due signori parlino e che cosa appunto ci serve beh ci serve sicuramente un modo per far sì che questa applicazione react faccia queste chiamate http e riceva delle risposte e sappia farci qualcosa con queste risposte quindi questo è una cosa che sicuramente ci serve come far sì che un'applicazione react per ora non lo sappiamo faccia delle chiamate http in questo caso al nostro server ma potrebbe anche farle a un servizio questa vorrebbe essere una nuvola un servizio cloud che ha a sua volta dell'api dell'api per il meteo per il calendario quindi in questo caso lo facciamo a server nostro in cui abbiamo pieno controllo è una situazione vantaggiosa e l'abbiamo progettato noi quindi sappiamo cosa abbiamo fatto sia in react sia nel server ma questo funziona ovviamente anche se noi dovessimo far parlare react con la nostra applicazione react con un server dovunque sia nel mondo anche se non abbiamo controllo anche se non ci sia un database dietro non importa con delle pi http non importa quello che ci sia dietro e questo è il primo pezzo il secondo pezzo ed è il pezzo facile se volete il secondo pezzo è una volta che react a queste informazioni cosa succede perché noi sappiamo che react quando crea un componente lo renderizza prima e dentro react poi a un certo punto calcola le modifiche rispetto al dom poi lo mette nel dom poi quando cambia lo stato o le props rirenderizza il componente quindi poi ricalcola le modifiche rispetto al dom quindi ha una serie di meccanismi propri per funzionare per funzionare come ci aspettiamo che funzioni ecco qui finora noi però abbiamo lavorato sempre qui all'interno di react ce la siamo in certo senso cantata e suonata avevamo tutto lì tutto autocontenuto cambiavamo lo stato noi dall'applicazione l'applicazione renderizzava componente aggiornato e finita lì qui stiamo iniziando a dire che alcune di queste informazioni alcuni di questi cambiamenti dello stato per esempio dipendono da una sorgente esterna dal nostro server qui per cui per esempio noi la lista degli esami le andremo a chiedere a un server andremo a chiedere a delle pi e queste pi potrebbero risponderci subito potrebbero risponderci dopo due secondi e potrebbero risponderci con un errore perché non ci possono fornire quello perché abbiamo scritto mai la url perché abbiamo scritto mai la richiesta perché richiedono l'autorizzazione non l'abbiamo data per un qualunque motivo perché il server è rotto per un qualunque motivo e noi dobbiamo intercettare e gestire queste cose in react ovviamente una volta che abbiamo queste informazioni che arrivano a un certo punto possibilmente giuste dobbiamo gestirle e intercettarle e far sì che l'applicazione funzioni quindi che renderizzi i componenti nel modo giusto eccetera e questo è la seconda cosa che vedremo oggi che appunto inizieremo a vedere oggi con tutti quegli esempi che per cui abbiamo creato quel repository e poi continueremo con alcuni aspetti un po' più avanzati la prossima settimana proprio perché volendo qui si può ci si può dilungare un po di più perché ci possono essere vari casi utili e importanti da sapere infine noi abbiamo un terzo diciamo così il problema che è react e il nostro server express non sono davvero su due computer diversi ma noi facciamo girare tutto nella stesso nello stesso sito sono stesso computer e quindi abbiamo il problema dei due server nel senso che noi all'interno dello stesso computer abbiamo sia l'applicazione react che ha un server sulla porta 3000 che ha un server di sviluppo che è servono in questo momento e poi abbiamo avremo anche il nostro server express che l'altra volta abbiamo lanciato sulla porta 3000 e uno ecco noi in questo momento avremo due server che girano e ci piacerebbe che insomma le richieste che arrivassero uno dei due ci piacerebbe in un certo senso che poterle gestire come un unico server in modo che le richieste che arrivino a react per esempio siano automaticamente quelli quando necessari inviate a a express e quindi non dover gestire doppi indirizzi doppie porte e in tutte le chiamate per cui se cambi la porta qui bisogna andare a modificare tutto il codice che fa queste chiamate http su react e questo è diciamo così un problema diciamo così che possiamo chiamare del doppio server che però è ci sono vari modi di di risolverlo e noi vedremo un modo che è quello più 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 semplice che ci richiederà una riga di cambiamento nel file package punto json quindi una modifica veramente minore e ci risolve questo problema quindi di questi tre argomenti come facciamo queste chiamate come gestiamo all'interno di react il fatto che queste informazioni arrivano in un certo momento e non sono collegate allo stato non sono collegate alle props non sono collegate al rendering dei componenti perché è un qualcosa che arriva dall'esterno e come gestiamo il problema del terzo server del secondo server sono i tre argomenti che affronteremo oggi dove appunto questo problema di all'interno di react è quello un pochino più complesso dei tre gli altri due sono veramente semplici e quindi ci porterà via oggi una buona parte di oggi e un pezzettino della prossima volta che concluderà come dicevo con un quell'esempio sul nostro rex core e il nostro rex core server ovviamente per buona parte della prossima e punto selezione della prossima settimana oggi per prima cosa parliamo di questo di come far sì che un'applicazione react e dell'api dovunque siano o qualunque qualunque cosa che risponda su http possa comunicare e questo si chiama questo è indipendente in realtà da react questa cosa che andremo a vedere che sono le fetch api sono in realtà api html5 quindi funzionano anche se voi aveste un'applicazione javascript html normale tradizionale quindi senza utilizzare react o utilizzando qualunque altro framework perché sono api standard esattamente come altre api che abbiamo visto però finora e queste api di fetch ci permettono in maniera generale e ovviamente anche in react di creare questo link di passare queste informazioni di processare queste informazioni qual è il goal di queste di queste api in parte di queste slide vogliamo sicuramente caricare dei dati che arrivano per esempio dal server in maniera sincrona ma vogliamo anche mandare questi dati vogliamo anche mandare delle richieste http e in alcuni casi potremmo avere bisogno di gestire più richieste gestire più richieste fatte in parallelo e gestire più richieste fatte in una dopo l'altra ma collegate per cui se la prima richiesta non va a buon fine la seconda magari non deve proprio partire perché senza i dati della prima non ha senso richiedere i dati della seconda e poi faremo anche un cenno velocissimo giusto una slide a un'alternativa a una libreria alternativa alle fetch mentre le fetch sono standard sono disponibili nel browser senza installare niente e quant'altro ci sono librerie alternative che sono un po più evolute rispetto all'api di fetch che però sono librerie vanno installate e vi cito una di queste che è molto utilizzata e che molto utilizzata appunto poi noi continueremo a usare fetch perché per i nostri scopi va finché bene e non ci serve l'extra che ci potrebbe dare quella libreria però giusto per conoscenza sappiate che esiste e che è la versione se volete avanzata con i superpoteri della fetch. Allora questo è un altro disegnino che riassume in parte quello che vi ho detto con qualche dettaglio in più. Allora noi al momento appunto cosa abbiamo? Abbiamo la nostra applicazione React che è questa che facciamo partire con npm start e abbiamo il nostro server e il nostro server ha delle API che abbiamo fatto per esempio l'altra volta delle get, delle post, delle put, delle delete, delle API HTTP che fanno cose, fanno cose sul database nel nostro caso specifico. E dall'altra parte abbiamo la persona che interagisce con l'applicazione React come abbiamo fatto finora, abbiamo i componenti, React, abbiamo lo stat, abbiamo le props e ci manca questo pezzettino qui che è quello che ci permette di collegare React in particolare come i componenti poi si renderizzano con il nostro server attraverso delle chiamate HTTP su cui si passa del JSON che è esattamente quello che abbiamo fatto fino alla settimana scorsa. Questo come vi accennavo prima deve fare queste due cose a cui prima non ho dato un nome ma che adesso possiamo iniziare a darlo. Deve fare, per fare le chiamate HTTP, devo utilizzare queste fetch API che consiste principalmente in un metodo che si chiama fetch e deve permettere la ricezione di questi dati e il re-rendering dei componenti in maniera appropriata. Magari anche il reset dello stato o l'aggiornamento dello stato in maniera appropriata. E per farlo faremo un cenno subito dopo a queste slide a il ciclo di vita di un'applicazione React e in particolare ha un nuovo hook che si chiama useEffect. Quindi abbiamo visto useState, abbiamo visto degli hook sulla libreria di routing, introduciamo un altro hook che è importante e useremo tanto per fare questo tipo di operazioni che si chiama useEffect. Che di per sé è abbastanza semplice come hook, come metodo, quanto meno da chiamare, ma ha tante implicazioni perché è molto flessibile. Permette di fare tante cose che funzionano in maniera levemente diversa in base a come lo si fa. Ma partiamo dalla fetch. Come dicevo, la fetch è un metodo che fa parte delle fetch API, che sono appunto API del browser, e che di default, se non viene specificato diversamente, fa delle richieste di tipo get. Ovviamente si possono specificare tutti i metodi HTTP che ci servono all'interno della fetch. Possiamo fare get, possiamo fare post, put, delete, eccetera. La fetch ha dei parametri, al di là del metodo con cui si vuole chiamare, ovviamente il parametro essenziale è la URL da chiamare. Voglio fare una get all'indirizzo HTTP qualcosa. E eventualmente, se voglio specificare altre informazioni, posso passare alla fetch un oggetto con parametri addizionali. Quali sono questi parametri addizionali? Beh, se non voglio fare, per esempio, una get, voglio fare una post, questo è un parametro addizionale che passerò al metodo fetch. Se voglio impostare un content type perché avrò un corpo della richiesta che sarà in JSON, sicuramente nel parametro opzionale metterò il content type, metterò cos'è questo oggetto JSON che voglio passare, e così via. Dato che sono API del browser, sono ovviamente, è un API del browser, è ovviamente disponibile praticamente in tutti i contesti, perché è disponibile appunto all'interno del browser e come dicevo prima, funziona per React, funziona per Angular, funziona per anche un'applicazione client, un sito web, un'applicazione web fatta con il puro HTML, CSS, JavaScript, anche senza framework. Dato che la fetch fa una richiesta asincrona, ovviamente fa una richiesta asincrona, perché noi quando chiamiamo un API, HTTP, non sappiamo dall'altra parte chi c'è e soprattutto quanto tempo ci metterà a darci una risposta. Non possiamo star lì a aspettare, bloccare l'intera applicazione web affinché, fino a che il server non ci dia una risposta dopo 5 secondi, 10 secondi. È tutto bloccato, non si può usare niente sul sito perché aspettiamo che il server ci dia una risposta. Nel nostro caso è difficile che capiti, perché il server girerà sullo stesso computer in cui girerà la nostra applicazione React, ma in generale il server potrebbe stare chissà dove e chissà quali elaborazioni fare per rispondere alle nostre chiamate. Non è detto che abbia il dato pronto lì da fornirci. O magari il server è sopraccaricato, quindi ci mette un po' più tempo a gestire tutte le richieste. Quindi possono succedere tante cose, la chiamata quindi deve essere asincrona perché non può bloccare l'intera applicazione in modo che la persona non possa fare più niente all'interno del client e quindi, dato che la chiamata è asincrona, ovviamente fetch ritorna una promise che verrà risolta appena l'operazione di caricamento verrà completata, quindi appena il server ci risponderà. Se siamo, diciamo così, fortunati, ci risponderà rapidamente. Se in casi peggiori ci metterà di più a risponderci e quindi semplicemente avremo questa promise che sarà pendente. Da notare però che la promise nella fetch viene praticamente sempre risolta in un modo o in un altro. Non è detto che abbiamo... No, viene risolta sicuramente quando abbiamo i dati che volevamo, chiediamo l'elenco dei corsi e quindi ci ritornerà una promise con il nostro JSON dei corsi, ma se ci fosse un errore sul database, per esempio, un errore nel server e quindi il JSON di risposta fosse un errore e quindi non l'elenco dei corsi ma un errore vero e proprio, noi qui avremo una promise che viene risolta correttamente e all'interno avremo magari lo status 500 interno al server error all'interno della risposta. Però la promise verrà risolta in maniera corretta. Perché? Perché la fetch è focalizzata sul trasmettere e ricevere dati via HTTP e quindi la promise viene risolta in maniera corretta praticamente sempre, viene risolta, viene fatto un reject, viene rifiutata solo ed esclusivamente in caso di errori di rete. Quindi se per qualche motivo non si riesce a fare questa chiamata, per esempio HTTP, allora in quel caso la promise viene risolta perché avete usato un indirizzo che non esiste e quindi un indirizzo di un server, dell'API che non esiste, quindi non si può fare questa chiamata. Allora in quel caso non può proprio fare la chiamata sulla rete e quindi viene rifiutata la promise. In tutti gli altri casi la promise viene risolta. Quindi bisogna comunque, una volta che arrivano i risultati dalla fetch, non possiamo basarci sul fatto che la promise venga risolta o meno per sapere se la richiesta è andata a buon fine, quindi ai contenuti che volevamo avere noi, ma dobbiamo andare a prendere la risposta che riceviamo da server, la risposta HTTP, messa in un oggetto JavaScript che riceviamo da server e vedere che cosa c'è in questa risposta. Se c'è quello che avevamo bisogno oppure se c'è un errore perché il server non ha potuto fornire la risposta che volevamo. E qui c'è un esempio di come funziona la fetch. Vedete, nel caso del get è molto molto semplice. Si chiama il metodo fetch a cui si passa il parametro obbligatorio che è la URL come stringa e poi dato che la fetch ritorna una promise possiamo, se vogliamo usare il den, aspettare che la promise venga risolta e poi in questo oggetto response avremo la risposta l'oggetto JavaScript che corrisponde alla risposta HTTP che otteniamo da server e in questo caso sappiamo essere un JSON perché, come dire, è scritto qui e quindi se la promise viene risolta possiamo per esempio chiamare questo metodo appunto JSON che è un metodo fornito sempre dall'Fetch API che ci permette di estrarre il contenuto JSON dalla risposta. Questo metodo in realtà poi genera un'altra promise perché noi non sappiamo quanto tempo questa elaborazione del JSON potrebbe metterci. Questo JSON potrebbe essere anche enorme, potrebbe essere molto grande quindi non possiamo di nuovo bloccare tutto nell'attesa che il parsing di questo JSON sia completato e quindi questo torna un'altra promise e quando, in questo caso, il contenuto del JSON, del corpo della risposta verrà messo in data e faremo qualcosa con data in questo caso la stamperemo a schermo. E qui c'è lo stesso esempio identico con await e async e ovviamente tutto questo deve essere messo all'interno della funzione che ha async. Vedete, facciamo una fetch con l'await, mettiamo la risposta in risposta e facciamo un altro await su response.json perché di nuovo sappiamo, sappiamo dall'API, sappiamo dalla documentazione e in parte sappiamo dal fatto che andiamo a leggere un file che si chiama exams.json che sicuramente ci sarà una risposta in JSON e quindi la parsifichiamo e otteniamo il corpo della risposta in JSON e la mettiamo nella variabile data e a quel punto la stampiamo. domande fin qui? Non è praticamente complicato, ma a volte questo passaggio del response che a sua volta è una promise crea confusione, diciamo. ok, mi fido dell'unica risposta arrivata in chat. allora, vediamo che cosa sono, che cosa c'è dentro questo response perché alla fine è l'oggetto che più ci interessa. Una volta che facciamo la richiesta ci interessa la risposta che arriva da questa richiesta. Questo oggetto è ovviamente un oggetto di tipo response definito dall'FCPI che ha una serie di proprietà le più importanti, quelle che useremo più frequentemente sono queste, riportate in slide. Ha una proprietà ok che è un boolean, vero o falso che ci dice se la risposta è ok quindi è un codice HTTP dal 200 al 299 quindi della famiglia 200 oppure no. In modo che noi possiamo dire ok, se la risposta è un 200x allora possiamo proseguire. Se la risposta non è un 200x beh, sarà un 404 sarà un 500 sarà un qualunque altra cosa che non è ok e allora possiamo fare altri comportamenti possiamo andare a vedere qual è l'errore possiamo intercettarlo possiamo gestirlo eccetera. Status e status text ci dice invece proprio lo specifico errore lo specifico codice e il messaggio di testo associato al codice quindi status 200 status 301 status 404 e corrispettivo testo IDERS è la collezione dell'intestazione della risposta HTTP se ci servisse vedere tutti i parametri dell'intestazione HTTP la URL questo è un parametro che è una proprietà che tipicamente si usa raramente è la URL finale da cui la risposta arriva che tipicamente coincide con quella in cui è stata fatta la richiesta ma in alcuni casi se per esempio ci fossero dei redirect potrebbe cambiare e potrebbe essere utile interessante saperlo nel 99% dei casi no e response.body è il body è il contenuto del body della risposta del corpo della risposta e notate che tutti questi ovviamente non sono promise a loro volta perché sono informazioni che la risposta ha già su interno il fatto che sia 200k il fatto che sia 404 not found sono tutte informazioni presenti nella risposta quelle che hanno che restituiscono la promise sono metodi tipo questo JSON qui per cui loro quindi la response non è che qualunque cosa sulla response restituisce una promise ma ci sono una serie di metodi sulla promise tipicamente quelli per estrarre informazioni dal corpo che restituiscono una promise perché sono quelli che devono fare delle operazioni significative potenzialmente significative sulla risposta gli altri sono valori che si possono utilizzare immediatamente quindi tutti questi qui sono valori che si possono utilizzare immediatamente senza avere un'altra promise perché sono proprietà e qui c'è un esempio di come si può accedere per esempio agli header della risposta quindi da response.header vedete tutto questo non è una promise lo usiamo subito se facciamo headers.get prendiamo il content type get.date prendiamo l'header date all'interno della risposta HTTP lo status lo status text eventuale tipo della risposta la url da cui arriva la risposta eccetera eccetera quindi informazioni in formato testuale che possiamo utilizzare per fare applicare delle logiche alla nostra risposta come vi dicevo la promise nel caso del fetch è rifiutata solo per errori che non dipendono dalla richiesta HTTP per esempio errori di connessione sulla rete quindi ogni valore HTTP 200 404 500 ditene uno ritornerà comunque sempre una promise risolta allora come si fa cosa suggeriamo di fare per gestire questi errori perché ovviamente se ci torna se il nostro server ci torna un 200K prenderemo il corpo della risposta e estrarremo i task estrarremo gli esami estrarremo i corsi e andremo a renderizzare qualcosa sul su React se ci risponde 500 o 404 ovviamente dovremo avere un comportamento diverso e non possiamo basarci sul fatto che la promise della fetch venga rifiutata o meno perché verrà sempre in questo caso non rifiutata risolta quindi possiamo sicuramente utilizzare quel response.key per verificare che sia tutto a posto che quindi ci sia un qualcosa di ok quindi se riceviamo un 200K benissimo vuol dire che la risposta è andata a buon fine possiamo parsificare il JSON per esempio col metodo response.json e ottenere così il nostro elenco di task il nostro elenco di design potremmo se non sappiamo no magari nel caso positivo ci torna un JSON nel caso di errore ci torna una stringa e ci torna qualcos'altro che non è un JSON potremmo intercettare il content type andare a vedere qual è il content type dal later per cui quindi se è un JSON possiamo parsificare il JSON se non è un JSON possiamo non parsificare il JSON non prendere il testo puro e poi avere un metodo di catch che vada a dire ok se non è un 200 vado a vedere lo stato se è 500 perché so che dall'API mi arriverà un 500 in certi casi specifici quindi intercettare quel 500 e comportarmi di conseguenza in modo che l'applicazione web che l'utente sta utilizzando possa continuare a funzionare senza problemi e qui c'è un esempio che fa vedere quello che vi ho appena detto con un caso specifico sul catch quindi per esempio nel caso della risposta se il 200K non va a buon fine quindi se non è un 200K lancio un errore con il testo dello stato per esempio 404 e a quel punto questo errore viene poi intercettato dalla catch da quest'ultima catch che va a intercettare l'errore e fa qualcosa con questo errore oppure si può controllare qui c'è un altro esempio che si controlla il type che sia se non è application JSON lancio un altro errore magari se non è application JSON è perché siamo già nella condizione d'errore quindi vogliamo fare cose diverse vogliamo non partificare il JSON ma questo è un esempio di gestione dell'errore è possibile non è obbligatorio farlo sempre così ma dipende dalla logica applicativa della vostra applicazione web cosa dovrà fare che tipo di risposta si dovrà aspettare come vi dicevo la fetch ha delle opzioni oltre all'url e in particolare ha un oggetto che contiene all'interno queste proprietà queste opzioni quindi la fetch ha due parametri uno è la url a cui fare la fetch in get di default e il secondo parametro è tutto il resto che serve per fare variazioni su questa fetch in get e cosa sono questi parametri qui sono indicati tutti beh sicuramente quello più importante è il metodo non vogliamo fare una get vogliamo fare una post eventuali header che dobbiamo passare per l'autenticazione l'autorizzazione eccetera il corpo vogliamo fare una post con un JSON e allora dobbiamo passargli il JSON da fare la post per creare l'esame per creare il task e così via e altri modi altri parametri per esempio il modo il credenziale e il signal che possono essere parametri che in certi casi sono utili questi ovviamente sono i tre che vengono utilizzati nella maggior parte dei casi e che noi utilizzeremo più frequentemente perché vorremmo sicuramente fare delle chiamate HTTP che non siano delle get e vorremmo sicuramente passare un corpo alla richiesta di un oggetto e dire che l'oggetto che passiamo è un JSON piuttosto che un qualche altro tipo di oggetto e quindi andremo a impostare il content type in maniera corretta e qui c'è un esempio di quello che vi ho detto di un post col JSON in cui usa la fetch questo è un esempio al di fuori di React proprio perché no? la fetch le fetch API sono indipendenti dal framework sono JavaScript puro però vedete noi chiamiamo la fetch ha una certa URL che sarà definita da qualche parte e in questo oggetto parentesi graffi quindi costruiamo un oggetto JavaScript che ha come primo parametro che ha come un parametro metode e in questo caso vogliamo fare una post impostiamo il content type all'interno degli header come application JSON se vogliamo mandare un JSON e poi se abbiamo un oggetto in JSON un oggetto da mandare come questo object to send che è già un oggetto JavaScript ricordate possiamo fare JSON.stringify che prende l'oggetto JavaScript e lo converte in un JSON testuale quindi questa fetch potrà fare una post col content type application JSON e mandare nel corpo la rappresentazione testuale convertita in JSON del nostro oggetto JavaScript che per esempio è riportato qui sopra e potrebbe essere simile ai vostri task a un nuovo task da creare come avete fatto nel Big Lab e questo è per fare la richiesta per processare la risposta abbiamo detto c'è per esempio se la risposta è in JSON un metodo che è response.json che restituisce una promise ma ce ne sono anche altri per esempio c'è .text che fa la stessa cosa di JSON quindi prende la risposta mentre JSON prende la risposta e restituisce dopo un'operazione asincrona un oggetto JavaScript corrispondente al JSON testuale che è arrivato dalla risposta alla chiamata HTTP esiste per esempio anche il metodo .text che in maniera analoga restituisce una promise quindi è asincrono che non fa il parsing del JSON ma fa il parsing del testo puro e quindi restituisce una stringa che è una stringa JavaScript da utilizzare come preferite noi spesso e volentieri saremo nel caso di utilizzare response.json un'altra particolarità della risposta è che questi metodi si possono per prendere il body si possono utilizzare solo una volta quindi voi non potete fare response.json e poi nella rega dopo fare response.text perché a quel punto il corpo è stato consumato il corpo della risposta è stato consumato in JSON e quindi non è più disponibile per altri tipi di elaborazione quindi avete la risposta se volete parsificare la risposta ci sono una serie di metodi quello che useremo di più sarà JSON che restituisce una promise e questi metodi si possono utilizzare una sola volta per ogni risposta ovviamente è una bella come mai questo è una bella domanda e hanno deciso così sarebbe la risposta più facile e immediata credo sia ma non è solo sicuro perché bisogna capire la testa di chi ha fatto questi metodi di fetch credo sia legato al fatto che per evitare problemi nel caso in cui arrivino risposte o evitare anche magari problemi di sicurezza nel caso qualcuno cerchi poi di modificare la risposta appena arrivata eccetera quindi per manipolare la risposta quindi io ho la risposta ho il corpo la manipolo l'estraggo e a quel punto non è più disponibile non è più toccata è stata consumata non devo più ricordarmela eccetera però dall'altra parte la dura realtà è che è così possiamo utilizzarla solo una volta per risposta ovviamente nuova richiesta nuova risposta possiamo utilizzarlo ma non è un grosso problema perché poi noi parsifichiamo il JSON in un oggetto e a quel punto dall'oggetto possiamo fare quello che vogliamo possiamo manipolarlo tutte le volte che vogliamo possiamo restituirlo possiamo mettere in un array possiamo fare quello che ci interessa fare una volta che abbiamo l'oggetto JavaScript dopo l'attesa della promise che venga risolta e questo in generale è appunto come funziona la fetch vedete non è particolarmente complicato ci sono due otre cose da ricordare ma alla fine è un metodo facile ha due parametri bisogna restituire le promise nel caso di manipolazioni manipolazioni potenzialmente lunghe e quindi non è particolarmente complicato da utilizzare come come API anche perché è un metodo solo ecco cosa succede se noi dobbiamo fare due fetch una dopo l'altra sequenziali beh se usiamo awaitasync è molto facile perché facciamo la prima fetch poi aspettiamo che la risposta venga partificata in JSON dall'oggetto che abbiamo della risposta otteniamo le informazioni che vogliamo per esempio in questo caso prende degli utenti e poi prende il primo utente e poi grazie a quell'informazione facciamo un'altra fetch in cui andiamo a prendere il nome del singolo utente chiamando un'altra API a quel punto quando la promise viene risolta possiamo estrarre il corpo JSON con gli opportuni controlli dalla richiesta e dopo che la promise sia ottenuta otteniamo anche i dati sugli utenti questo si può fare anche ovviamente col den e col catch ma diventa un pochino più complicato perché abbiamo un den poi all'interno del den avremo avremo un den della fetch poi un den della response.json all'interno di questo den estrarremo user e sempre all'interno di questo den faremo la nuova fetch che avrà un nuovo den al cui interno ci sarà questo user.json che avrà un nuovo den che finalmente ritornerà user.data quindi con awaitasync diventa molto più più lineare da scrivere e da fare però semplicemente le facciamo in sequenza aspettiamo che una sia elaborata quindi di nuovo response.json lo possiamo usare una volta sola quindi lo mettiamo in user e poi qui manipuliamo le cose da dentro users estraiamo le informazioni che vogliamo perché tanto questo è un oggetto javascript che abbiamo nella nostra applicazione e usiamo le informazioni di questo oggetto per fare quello che ci serve in questo caso un'ulteriore chiamata a http se vogliamo fare delle fetch invece in parallelo perché vogliamo per esempio avere due informazioni nello stesso momento vogliamo chiedere non lo so il meteo in due città diverse perché ci può servire visualizzarlo contemporaneamente in applicazione web e quindi non vogliamo aspettare che abbiamo il meteo di Torino prima di chiedere il meteo di Milano ma vogliamo chiedere contemporaneamente il meteo di Torino e il meteo di Milano per saperli per fare qualunque cosa ci possa servire possiamo utilizzare promise.all che avevamo visto quando abbiamo parlato delle promise che appunto ci restituisce aspetta che entrambe le promise sono restituite e a quel punto dai risultati di questo promise.all possiamo fare le elaborazioni che ci servono per ognuna di queste possiamo prendere il testo possiamo prendere il JSON possiamo prendere quello che ci serve quindi fetch e sincrone basta metterle una dopo l'altro facendo attenzione è che se si usa il formato den ovviamente la seconda fetch avvenga dopo avvenga all'interno del den del parsing del budget della risposta della prima se ovviamente si deve estrarre informazioni da lì se bisogna farle in parallelo perché ci possono servire possiamo tranquillamente usare promise.all che appunto fa due chiamate HTTP in parallelo ecco una domanda secondo voi noi in React score se ricordate abbiamo i corsi e abbiamo gli esami così sto un po' pezzetto io e se ricordate sono due oggetti al momento in React diversi e hanno due API avevamo fatto due API l'altra volta sul server secondo voi li chiediamo in sequenza o li chiediamo in parallelo quando lo faremo pensando a come funziona React score e quindi ve lo ricordo in corso abbiamo il nome del corso il codice del corso e le altre informazioni sul corso mentre negli esami abbiamo il codice del corso il voto la data e basta ma non abbiamo il nome mentre React visualizza una tabella con solo degli esami non visualizza i corsi e visualizza una tabella degli esami con il nome del corso che è un'informazione che qui in examen non abbiamo il voto la data e utilizza il codice solo nella struttura diciamo HTML allora in questo caso noi faremo secondo voi faremo due promise una promise all per chiederli insieme oppure potremmo chiederli in sequenza o è indifferente o non avete idee non lo so va bene anche come risposta in parallelo per ottenere tutte le informazioni insieme qualcun altro che è d'accordo qualcuno è in disaccordo potremmo fare in sequenza e prendere solo il nome dei corsi perché abbiamo sostenuto già l'esame e qualcun altro è d'accordo con questa seconda versione allora in questo caso vi dico la mia in questo caso poi lo faremo la settimana prossima e vedremo come lo faremo e probabilmente non lo faremo in parallelo ma quello è un problema diverso in questo caso potrebbero andare bene entrambe le risposte perché noi potremmo chiederle in parallelo una volta che abbiamo entrambe le risposte ovviamente possiamo processarle quindi abbiamo tutte le informazioni che ci servono ma in effetti potremmo anche chiederle in sequenza perché? perché noi abbiamo una dipendenza no? esame dipende da corsi quindi se corsi non funziona per qualche motivo non ce ne facciamo niente di esami no? è un po' come dire i corsi sono i corsi che avete nel carico didattico e gli esami sono gli esami che avete superato su quei corsi non potete fare un esame di un corso che non è nel carico magari potete farlo ve lo fanno fare ma poi non potete registrarlo finché il corso non appare nel carico quindi c'è una dipendenza stretta che è una dipendenza logica applicativa dell'applicazione web in un certo senso e in questo caso del processo di università ma c'è una dipendenza stretta quindi è vero che potremmo farli in parallelo per ottenere tutte le informazioni insieme però se per qualche motivo corsi non venisse o non tenessimo una risposta il fatto di aver chiesto esami per la nostra applicazione non ce ne facciamo niente perché tanto non possiamo processarle le informazioni non possiamo visualizzare la tabella con gli esami se non abbiamo i corsi quindi le facciamo ma sprechiamo in un certo senso una chiamata HTTP perché se corsi non va a buon fine potremmo quasi non chiedere l'esami finita lì non possiamo visualizzare l'esame perché l'applicazione è rotta mancherebbe il nome del corso per esempio da visualizzare oppure potremmo scegliere di visualizzare ma dicendo occhio che io non so nel nostro applicazione attuale vedremmo un corso senza nome solo con scritto il voto e la data no? un esame senza nome e quando dobbiamo modificarlo cosa modifichiamo? quindi dipende in parte la logica applicativa ovviamente nella nostra logica applicativa abbiamo anche creato questa dipendenza nell'applicazione React quindi se è vero è corretto che potremmo farlo in parallelo dato che abbiamo questa dipendenza nel caso in cui i corsi sia ovviamente restituito in maniera problematica o in con un errore potrebbe non aver senso chiedere esami perché se tanto senza corsi non abbiamo esami da poter aggiungere da poter modificare da poter cancellare eccetera o da visualizzare e quindi potremmo anche farlo in sequenza in cui quando corsi viene restituito correttamente allora chiediamo anche esami e quando abbiamo anche esami renderizziamo tutto quindi per gestire alcuni casi particolari data come fatta la nostra applicazione React potrebbe anche aver senso come diceva un altro gruppettino di voi in chat farlo in maniera sequenziale lo svantaggio rispetto a farlo in parallelo ma ovviamente ci risolve altri problemi lo svantaggio rispetto a farlo in parallelo è che ci serve un po' più tempo perché in parallelo faccio due chiamate e poi ho subito i dati invece lì devo farla prima aspettare il risultato vedere se è a posto e poi fare la seconda quindi potenzialmente potrebbe servirci un pochino più di tempo rispetto a farlo in parallelo non tanto di più perché poi le due chiamate HTTP comunque vengono fatte dalla promise.all nello stesso tempo la promise.all aspetta che entrambe arrivino e invece se la si fa separatamente in maniera sequenziale ogni fetch aspetterà che una delle due arrivi quindi c'è poi un'eccessiva differenza di tempo però un pochino di più potrebbe esserci perché aggiungiamo della logica applicativa però ripeto dipende anche in maniera forte e questo è il punto che volevo sottolineare già ora dipende anche in maniera forte da quello che la nostra applicazione fa perché se la nostra applicazione avesse una pagina per i corsi una pagina per gli esami e le due non si parlassero e le due non scambiassero dati quindi non ci fosse dipendenza tra i corsi e gli esami nessuna perché sono due sette di informazioni completamente indipendenti l'una dall'altra che vengono visualizzate e elaborate in maniera completamente diversa e indipendente potevamo anche farli in parallelo per velocità per inizializzare l'applicazione per esempio e bombe se i corsi poi gli dava problemi non importa perché la pagina esami potrebbe continuare a funzionare senza nessunissimo problema quindi entrambe le risposte diciamo così sono corrette ma il punto critico è dipende dall'applicazione web che state fornendo al vostro utente che cosa deve fare ok questo era una breve parentesi su un discorso su cui poi in parte torneremo quando faremo React Score la settimana prossima infine dicevamo che Fetch è la versione standard l'API standard c'è una libreria ci sono varie librerie alternative un po' più avanzate quella più comune che si chiama Axios ed è disponibile sia per funziona è una libreria JavaScript quindi funziona anche per ogni applicazione web JavaScript nel browser e quindi non ha problemi con React non ha problemi con altri framework non ha problemi senza framework eccetera e è un po' più sofisticata per esempio realizza automaticamente la conversione del JSON quindi non bisogna fare response.json ma ci pensa lui quando quando c'è un JSON fornisce un modo più facile di separare la risposta su richieste parallele quella che invece con la Fetch facciamo con promise.all poi gestiamo la risposta a mano funziona anche in Node quindi funziona anche nel se voi faceste un'applicazione desktop in Node che fa delle chiamate che vi chiamate HTTP verso un altro verso un server o anche un server che fa delle chiamate HTTP Axios è disponibile per fare chiamate HTTP mentre Fetch no Fetch non è disponibile in Node è disponibile solo nel browser eccetera quindi è una versione diciamo così avanzata ovviamente fatta ad hoc per essere anche avanzata per fornire modi più avanzati di fare certe cose che invece con Fetch o non sono possibili per esempio l'utilizzo in Node oppure possono essere un pochino più complicati da fare manualmente quindi può essere comodo sapere che esiste e se volete per esempio per l'esame o nella vostra vita futura al di là del corso sapere che esiste e considerare se in certi casi può essere utile usarla un'altra cosa molto comodo di Axios è che ha un modo facile di cancellare una richiesta HTTP prima che arrivi la risposta con la Fetch è decisamente più complicato quindi una serie di utilità che potrebbero essere appunto comode in alcune situazioni non nelle situazioni base per cui non c'è differenza tra usare Axios o usare Fetch per le cose più semplici per le cose più di base ok questo chiude il discorso sul Fetch e faremo poi un esempio dopo quando saremo in React perché adesso ci manca ancora quell'altro pezzettino sul ciclo di vita per poter fare un esempio un po' più pratico e domande fin qui Fetch l'equoliente moderna di Ajax sì di Ajax GQuery del metodo Ajax o di Ajax sì è l'equoliente standard in realtà sì però l'equoliente moderno standard della chiamata Ajax per esempio di GQuery sì esatto e il modo del 2021 e anche negli ultimi 5-6 anni in cui fare chiamata HTTP da JavaScript ok allora affrontiamo e poi probabilmente faremo una pausa il problema dei due server che abbiamo detto prima che abbiamo detto abbiamo tre cose da fare oggi la fetch con l'interazione HTTP che è la fetch che abbiamo visto abbiamo il ciclo di vita di React che è un pochino più complicato e quindi ce lo teniamo per ultimo perché così possiamo stare tutto il tempo che serve e 3 il problema dei due server che gireranno sul nostro computer perché avremo il server express e avremo anche il server fornito da React e ci piacerebbe usarne uno solo per esempio nel browser per fare tutte le operazioni senza dover usarne N e questo set di slide vi racconta il problema dei due server e delle possibili soluzioni ora la scelta che abbiamo fatto quest'anno è questa vi raccontiamo vi racconto il problema sicuramente è una delle possibili soluzioni che è la più facile la più immediata ed è quella che poi vi chiederemo per esempio di usare all'esame e quella che useremo anche negli esercizi che potrete usare nei laboratori eccetera ma dato che le slide come dire c'erano già in realtà ed esistono altri metodi che sono dall'elevamente al molto più complessi da fare per risolvere lo stesso problema e che in altri casi può aver senso sapere che esistono abbiamo lasciato in questa parte evidenziata in rosso qui altre possibili soluzioni con React della stesso problema di React più un altro server X della stessa problema e che se volete quindi in maniera totalmente facoltativa e se siete interessati adesso o in futuro tanto le slide in pdf le avete e potete consultare per sapere come si può fare in maniera diversa magari su per risolvere problemi più specifici per esempio se voi mai doveste fare il deploy su un server vero cloud diciamo per esempio o appunto fornire il deploy per fornire la vostra applicazione web React a un'azienda a dei clienti a quant'altro ecco gli altri metodi sono ovviamente più sono da utilizzare alcuni degli altri metodi sono da utilizzare a differenza di questo che vedremo noi che come dice il titolo vedete dice che utilizza il server di sviluppo di React che è quello che stiamo utilizzando noi quello che lanciamo automaticamente quando facciamo npm start e quindi se doveste per esempio fare il deploy di un'applicazione React su Heroku su Amazon su qualche servizio di questo tipo ovviamente non usate il server di sviluppo di React per la produzione ma userete un altro tipo di server che dovrà non solo fornire magari dell'API ma dovrà anche fornire questo altro server l'applicazione React che avete realizzato e che volete distribuire che volete far sì che le persone utilizzino quindi questa parte rossa che a un certo punto nelle slide troverete un boxettino che ho scritto da qui in poi siete liberi di leggerlo o di ignorarlo di leggerlo adesso o di leggerlo in futuro o ignorarlo per sempre come volete racconta gli altri metodi per farlo noi ci concentriamo su questo sul problema in generale ci concentriamo poi su questa soluzione in particolare che è quella che useremo durante il corso e che è quella richiesta in un certo senso da sapere e da utilizzare proprio perché anche per l'esame comunque useremo sempre i server in modalità di sviluppo anzi vi sarà proprio richiesto di utilizzare i server in modalità di sviluppo quando consegnerete il vostro progetto all'esame allora qual è il problema il problema è che noi spacchettiamo un pochino di più la nostra applicazione React che per ora abbiamo sempre visto qui in questa parte blu cosa succede quando facciamo npm start succede che quando facciamo npm start parte il server di React quello che tipicamente infatti noi scriviamo poi nel browser http due punti localhost 3000 quindi quello è un server che fornisce l'applicazione React a chi le fornisce questa applicazione React al browser che poi in una richiesta http iniziale quindi quando noi apriamo il browser o il browser si apriva da solo in realtà quando facciamo npm start scriviamo localhost 2.3000 cosa succede succede che il browser chiede in una richiesta http iniziale al server di sviluppo di React che viene lanciato con npm start per favore mandami l'applicazione React che io devo visualizzare renderizzare in javascript e quindi poi nel browser quindi poi il server gli manda l'applicazione che noi abbiamo realizzato e sarà questa applicazione nel browser che farà per esempio la fetch allora qual è il problema il problema è che questo server di sviluppo che abbiamo qui che ci fornisce l'applicazione React al browser e nel nostro caso noi siamo in una situazione favorevole siamo in una situazione comoda in un certo senso ma che non ci permette a volte di capire di vedere questo problema perché noi abbiamo tutto che funziona su un unico computer abbiamo il server di React abbiamo il browser sullo stesso computer ma voi dovete sempre immaginarlo come un'applicazione web quindi immaginate che il server di React è sul vostro computer e che il browser sia sul computer del vostro collega di gruppo per esempio che sul suo computer accede al server che è sul vostro computer e in parallelo c'è qualcun altro dal tablet che apre il browser e anche lui accede al vostro stesso server che gira sul vostro computer quindi questi due oggetti il browser e il server che gira sul vostro computer sono separati noi non li vediamo separati perché quando lanciamo un server con un npm start si apre chrome si apre firefox e siamo lì tutto sullo stesso computer e poi cambiamo il codice e vediamo subito la modifica ma no concettualmente c'è una richiesta anche non concettualmente praticamente c'è una richiesta http che nel nostro caso inizia e finisce sul computer ma può essere sulla rete quindi sono due entità diverse e questa fetch qui ovviamente dovrebbe poter chiamare altri server perché non gira all'interno di questo server gira nel browser e qual è il problema di questo server? beh che questo server noi non lo tocchiamo nel senso che quando facciamo npm start lui parte fa cose e ci permette di utilizzare l'applicazione react siamo contenti che ci prometta di farlo fine non usa express non possiamo scrivere dell'API lì dentro non possiamo modificarlo per aggiungere dell'API per esempio e non possiamo aggiungere percorsi per cui vogliamo fare altre cose non possiamo farlo lui semplicemente ci presenta l'applicazione react e dall'altra parte sappiamo quello che abbiamo appena detto nel set di slide precedenti abbiamo il browser a questo punto che viene fornito da un server che vuole parlare su HTTP su JSON con un altro server che ovviamente è diverso da quello di react e che è il server che abbiamo fatto noi quello in express però questo server quale problema quindi noi potremmo dire bene buttiamo via il server di react perché devono tenercene due buttiamo via il server di react e spostiamo questa parte che viene servita al browser qui dentro così nel nostro server express avremo l'API HTTP e forniremo al browser anche la nostra applicazione react così buttiamo via il server di sviluppo e usiamo il nostro server qual è il problema? che il nostro server react il nostro server API non capisce JSX e non sa cosa sia un componente react lui capisce html javascript css e fa chiamate HTTP e risponde al JSON ma non ha tutti questi concetti che react si porta dietro perché ricordate l'applicazione react il server prima di mandarla al browser fa delle operazioni perché anche il browser non è che capisca JSX il browser ha bisogno di html css javascript per funzionare quindi c'è un server che fa delle elaborazioni e express non è pronto per fare queste elaborazioni per esempio prendere il JSX e convertirlo in html css javascript puro da passare al browser e quindi noi abbiamo due server nel momento in cui abilitiamo la fetch e cerchiamo di mettere tutti insieme abbiamo il server di react che ci fornisce al browser la nostra applicazione react abbiamo il browser ripeto potenzialmente sul computer di qualcun altro rispetto al server che prende in una chiamata http iniziale l'applicazione react completa e poi è il browser che si preoccupa di gestire tutto perché è una single page application quindi questo serve principalmente per la chiamata http iniziale che fornisce l'applicazione react al browser e poi abbiamo la nostra applicazione react che deve chiamare un server per esempio attraverso la fetch il nostro server API su un indirizzo e o porta completamente diverso di nuovo nel nostro caso noi avremo tutto su localhost questa la porta 3000 e questo per esempio alla porta 3001 ma questo è il browser giro sul stesso computer ma questo è il caso fortunato è il caso nostro questa stessa architettura potrebbe funzionare se questo fosse dovrebbe funzionare se questo fosse sull'indirizzo esempio.com e questo fosse sull'indirizzo qualcosa appunto pulito punto it quindi abbiamo questo problema dei doppi server e questo browser che deve chiamare che è fornito da questo server iniziale ma può chiamarne un altro allora quali sono i problemi e sono principalmente tre primo cerchiamo di avere un server che faccia tutto quindi cerchiamo di unire in qualche modo express e react e il server di react insieme oppure ne manteniamo due e cerchiamo di far sì che in qualche modo si parlino quando c'è bisogno perché ovviamente potremmo avere problemi con la fetch se avessimo due server diversi secondo c'è un trade off tra lo sviluppo e la produzione perché se non riuscissimo a portare tutto in un unico server che sono le altre soluzioni più avanzate che non affrontiamo oggi che non affrontiamo nel corso ma sono quelle presenti nelle slide se non riuscissimo a portare tutto un unico server e poi in fase di sviluppo avremmo la vita un pochino più complicata perché ovviamente questo altro server qui non è fatto apposta per lo sviluppo come server di react che lanciamo con npm start server di react noi non ce ne siamo accorti magari finora ma per esempio lo vedremo dopo il server di react alcune volte in modalità sviluppo per esempio fa il rendering due volte dello stesso componente perché perché fa dei controlli per verificare che tutto sia consistente perché lui per cui se lui fa dovrebbe renderizzarsi una volta sola e in produzione si renderizzerebbe una volta sola ma lui fa dei controlli extra per cui renderizza lo stesso componente due volte e nel caso in cui questo doppio rendering non coincidano vi segnala che c'è qualche problema da qualche parte che è molto utile se capita in sviluppo perché ovviamente mi segnala dei problemi prima che possono capitare poi una volta che ho rilasciato magari la mia applicazione web al mondo e questo ovviamente se uniamo tutto in un unico server lo perdiamo queste funzionalità extra che il server di sviluppo ci può dare e il ricaricamento automatico dell'applicazione quando c'è un salvataggio è un'altra cosa che il server di sviluppo ci dà però ovviamente se dobbiamo fare il deploy tutte queste cose non le vogliamo non vogliamo che in fase di deploy con un'applicazione web disponibile a tutti potenzialmente per esempio ci sia un rendering che capita due volte invece di una giusto per fare un controllo in più perché quello è un qualcosa che deve capitare in sviluppo e non in produzione e quindi ci sono dei trade off da una parte c'è la convenienza da una parte c'è il debug che è molto utile per lo sviluppo anche a scapito di qualcosa di levemente più lento che ci capita nello sviluppo proprio perché vogliamo intercettare i problemi se ci sono prima di appunto rilasciare un qualcosa al pubblico e dall'altra parte se fosse un sito rilasciato un'applicazione web rilasciata al pubblico avremmo sicuramente più interessati saremmo sicuramente più interessati alla performance quindi non vorremmo avere il doppio rendering non vorremmo avere qualcosa di più lento ma vorremmo avere la miglior performance possibile abbiamo altri problemi di sicurezza che in fase di sviluppo ci interessano fino a un certo punto ma ovviamente se lo mettiamo online abbiamo sicuramente certi problemi di sicurezza da aver già risolto in fase di sviluppo ma all'inizio ci interessano fino a un certo punto e poi abbiamo delle limitazioni dovute al cross origin che accennavamo non mi ricordo se la settimana scorsa o qualche settimana fa quindi questa limitazione per cui JavaScript nel browser non può chiamare nativamente se il server non lo prevede se il server che fornisce la pagina e il server a cui viene fatta la richiesta non lo prevede che la richiesta dal browser vada a un server su un dominio diverso quindi di default io non posso dal browser su un'applicazione web fornita da localhost 3000 fare una chiamata HTTP a localhost 3001 perché non sono nella stessa origine sono su due server diversi quindi anche la nostra fetch avrebbe dei problemi perché la nostra fetch sarebbe fornita da un server che gira su localhost 3000 o comunque sull'indirizzo X e porta X non importa e farebbe una richiesta a un qualcosa che non è su X ma è che è da un'altra parte e quindi bisognerebbe abilitare il cross origin sui server eccetera 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 che si può fare e sono soluzioni a questi problemi ma bisogna farlo con accuratezza e con sapendo che cosa si fa inoltre questo doppio server in realtà potrebbe darci anche dell'opportunità da una parte se lo risolviamo potremmo utilizzare qualunque server API come vi facevo nel disegnino inizio lezione noi adesso abbiamo React e il server API ma potremmo anche prendere usare delle API dal meteo che ovviamente non sviluppiamo noi ma qualcuno ci fornerà l'API per il servizio meteo quindi risolvendo il problema del doppio server in qualche modo possiamo far sì che la nostra applicazione React fornita alla server che pubblica su localhost 3000 possa anche chiamare l'API da il meteo.it e quindi fare chiamate diverse non solo al mio server API ma anche ad altri server API dovunque siano qualunque indirizzabiano e in fase di sviluppo e in fase di produzione avere due server potrebbe anche aiutare a separare i carichi per cui io posso far girare il server HTTP dell'API da una parte e il server che poi fornirà React da un'altra su macchine diverse o comunque su macchine virtuali se fosse diverse quindi posso gestire diversamente le varie le varie opzioni che ho se invece avesse tutto dentro un server unico certe cose sarebbe più difficile separare il carico tra il server dell'API e il server di React e avrei qualche complicazione in più a usare degli API server esterni quindi queste sono una panoramica veloce di tutti i problemi che possono esserci e ci sono tre possibili soluzioni di cui queste tra parentesi rosse sono quelle che non vediamo che sono però nelle slide ripeto quindi se volete leggerle adesso o in futuro sono lì quello che vediamo è questo che si chiama React Development Server Proxy praticamente cosa facciamo il development server il development server di React ha un'opzione per funzionare per dire qual è il server che agisce come proxy e in questo caso cosa vuol dire vuol dire che il browser tipicamente parlerà sempre non saprà dell'esistenza di un altro server ma parlerà sempre col server sullo Colostra 3000 e questo server di sviluppo che noi di nuovo non controlliamo non manipoliamo più di tanto per ora non manipoliamo proprio saprà che alcune che le richieste che può servire lui che può gestire lui le gestisce quindi tutte quelle che riguardano React e tutte le richieste che invece non sa gestire perché per esempio non riguardano le React prova a inoltrarle al server all'indirizzo indicato come proxy quindi quando noi chiederemo per la prima volta la nostra applicazione React semplicemente lui saprà gestirlo il React Application Server saprà gestirlo e quindi fornirà i componenti React l'applicazione JavaScript HTML CSS al browser in maniera corretta quando il browser farà una fetch farà una fetch quando il browser farà una fetch farà una fetch a lui all'Application Server di React che prenderà questa fetch e dirà questa non è roba mia perché non sa non sa gestire la fetch su API esami o API task e dirà dato che questa è una roba mia fammi vedere se è un proxy sì ho un proxy ok provo a girare questa richiesta che arriva dalla fetch al proxy e il proxy a quel punto sarà il nostro server express che dirà ok sì io questa so gestirla e allora il server express risponderà al server React che a sua volta riceverà la risposta e la ri-inoltrerà al server come se arrivasse da lui quindi appunto agisce come proxy e questo è lo vedremo una riga di configurazione nel file ci sono poi altre due soluzioni possibili ve l'accenno solo che funzionano mantengono la prima mantiene i due server separati ma abilita il course origin su sul secondo in modo che il browser possa parlare direttamente con con lo server dell'API e il terzo consiste invece nel mettere tutto all'interno di un unico server express vedo che qualcuno sta scrivendo quindi aspetto che che finiscano di scrivere prima di allora chiariamo alla domanda rispondo prima alla domanda di Lorenzo perché è più facile in generale tra le altre due soluzioni c'è una preferibile o dipende dall'applicazione dipende dall'applicazione in parte ci sono vantaggi e svantaggi per entrambe dipende dall'applicazione dipende da quello che puoi fare o vuoi fare questa soluzione qui per esempio ti permette di distribuire meglio il carico tra due server perché sono effettivamente due server che girano indipendentemente col svantaggio un'apertura diciamo di sicurezza con questo meccanismo questo non ti permette di gestire il carico perché è tutto su un unico server quindi è più difficile gestire il carico delle richieste che arrivano ma dall'altra parte non hai è tutto dentro l'unico server che gestisce tutto lui e quindi è più facile e poi appunto fare le cose e d'altra parte ancora vedi che questo è si chiama React Application Bundle tra parentesi Static File quindi è una versione di React in un certo senso compilata e passata all'interno di Express quindi pre-confezionata pre-digerita quindi questo è molto comodo per esempio in fase di deploy perché hai già mette dentro Express una versione finita della tua applicazione React in un certo senso e quindi la rende disponibile a browser quindi questi due sono molto utili per il deploy però hanno vantaggio e svantaggio ognuno e richiedono un po' più lavoro ognuno però appunto se poi guardi le slide dopo ci sono tutti anche questi vantaggi e svantaggi raccontati Tommaso la domanda è importante perché è un punto chiave quello che dicevo prima noi abbiamo in un certo senso il modello mentale forse un po' sbagliato perché stiamo usando tutto sul nostro computer ma tu dici ma perché la fetch parte dal browser è come se qualcuno nel browser digitasse localhost API exams ma questo non dovrebbe succedere dovrebbe partire da React ni nel senso no però sì parte da React perché quello che fammi prendere un po' di spazio bianco quello che noi adesso abbiamo se pensiamo solo a React noi abbiamo il React Development Server che è quello che si lancia sulla porta 3000 che il browser quando qualcuno scrive HTTP bla 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 3000 fa una GET a questo server il quale gli risponde con index HTML che a sua volta contiene index JS che a sua volta contiene app JS che a sua volta monta tutti i componenti e gli risponde con l'applicazione React e da quel punto da quel momento in poi dato che è una single page application l'applicazione gira qui no è una single page application quindi il server fornisce una pagina e poi è tutto il browser che se lo gestisce quindi nel momento in cui noi scriviamo nel codice fetch il fetch la fetch gira qui gira nel browser quindi se io avessi e questo è un problema che vedremo se io avessi due browser entrambi farebbero una GET in un certo momento all'applicazione React single page e entrambi riceverebbero una loro versione dell'applicazione React che poi è gestibile in maniera indipendente ma entrambi avrebbero la loro chiamata la fetch questo è quello che già adesso facciamo solo che noi lo vediamo un po' meno perché è tutto su un unico computer ok quindi quello che a un certo punto quello che noi stiamo facendo in React quando clicchiamo da qualche parte tutte quelle operazioni vivono all'interno del browser quasi come se questo non esistisse più cioè questo potremmo anche in certo senso interromperlo e in buona parte di questo continuerebbe a funzionare non funzionerebbe proprio le root ma se non avessimo le root ecco questo poi gestisce anche le root le root client side ma tutto il resto avviene all'interno del browser quindi la fetch la fa il browser la fetch la fa sempre il browser infatti è un API del browser che non è disponibile su node quindi la fetch la fa sempre il browser e qui e qui il problema perché se la fetch la facesse il server non avremmo problemi perché un server può parlare con qualunque altro server come qualunque applicazione desktop può parlare con qualunque altra applicazione non importa dove sia nel mondo se è su http non ha problemi ma è il browser che ha problemi a parlare con un qualcosa che non è fornito per motivi di sicurezza dal server che fornisce l'applicazione web che sto correttamente visualizzando per cui ci serve tutto questo e se no non avremo problemi questo chiarifica Tommaso no quando quando una fetch facciamo questa qui parte per il server S qui fa così fa così passando attraverso internet ovviamente ma non passa da questo server quel server è il server che fornisce l'applicazione web poi se l'applicazione web non fa chiamate esterne è finita lì se l'applicazione web fa chiamate esterne è un problema è un problema per cui ci serve questo questo ed è un problema fatemelo aggiungere magari l'avevamo raccontato quando abbiamo parlato dell'architettura web è un problema perché questa è una single page application perché fosse una multi page application tornerebbe più spesso sul server e quindi potrebbe essere il server che recupera le informazioni e le passa al browser e abbiamo tutti questi problemi perché perché in realtà nel mondo moderno facciamo tante cose in javascript nel browser e quindi un'applicazione react che è uno degli svantaggi di react e per cui esiste esistono delle soluzioni che si agganciano a react per togliere questo svantaggio è che ogni browser rirenderizza tutto da capo quindi tutto il rendere dell'applicazione react è tutto in carico al browser quindi se io ho un browser su questo computer che apro l'applicazione react da il server di di Tommaso facciamo finta che è un server pubblico quindi posso farlo quindi vado su http il server di tommaso.it e io prendo l'applicazione react e l'applicazione react gira nel mio browser quindi tutto il rendering avviene nel mio browser e se il mio browser è lento il mio computer è lento ovviamente l'applicazione react è lenta perché è il computer il mio browser il mio computer che sta facendo tutto il lavoro di rendering che è una caratteristica delle single page application e gestisce tutta la logica della single page application in javascript e quindi si porta a grete il problema delle chiamate HTTP come la fetch prego è chiaro per tutti questo punto perché è un punto ovviamente abbastanza fondante dell'architettura web soprattutto quello che stiamo facendo che è vero l'abbiamo raccontato l'ho raccontato in architetture web ed era un video da guardare indipendentemente però siamo tutti sulla stessa pagina su questa parte adesso al netto di Tommaso che ha detto di sì gli altri 32 31 prendo la faccina che ride come un sì su zoom ok ora come applichiamo questa questa soluzione beh questa è una funzionalità fornita dal server di sviluppo di React quindi è già tutto pronto per essere utilizzato ci evita una serie di configurazioni passaggi di bundling eccetera e il browser nostro utente quindi ricordiamo sempre che il browser gira su un altro computer ipotizziamo sempre quello il browser del nostro utente che non siamo noi pensa che ci sia solo un server quindi lui non ha problemi uno fa la fetch e fa la fetch all'Oculost 3000 non fa la fetch all'Oculost 3000 non fa la fetch a un altro indirizzo fa la fetch al suo server che è totalmente lecito è totalmente appropriato senza problemi di sicurezza senza configurazioni strane eccetera e poi sarà il server che si preoccupa di gestire eventuali chiamate che lui non è capace a gestire questo vabbè ve l'ho già raccontato il server di React appunto agisce come proxy per certe richieste quelle che lui non è capace a gestire quindi quelle che non è capace a gestire che riguardano React le manda a qualcun altro questo qualcun altro è specificato nel file packages.json con una proprietà e il proxy a quel punto quando riceve la chiamata all'altro server quando riceve la richiesta restituisce la risposta non modificata come se fosse la sua come se arrivasse direttamente dall'Oculost 3000 dal nostro server express quindi proprio la risposta pura senza nessun tipo di problema come si configura? beh facilissimo si apre package.json a un certo punto dove volete scrivete questa riga proxy tra virgolette due punti l'indirizzo HTTP del server API che volete che funzioni come proxy fine fate partire il server di sviluppo di React e fate partire questo server ovviamente e tutto dal browser tutto funziona e tutte le fetch le fate a localhost 3000 anche quelle che sono per localhost 3000 e 1 e in React ora questo va benissimo per lo sviluppo anche perché funziona solo col server di sviluppo in modo di sviluppo quindi se noi cambiassimo server o dicessimo a server non funzionare più il server di React non funzionare più in modalità sviluppo ovviamente questo meccanismo non funzionerebbe quindi questo va bene per sviluppare va bene per il corso va bene per l'esame eccetera però se uno poi deve andare in produzione questo non funziona questo meccanismo del proxy non funziona questo meccanismo specifico qui fatto in questo modo non il meccanismo del proxy in generale quindi molto semplice aggiungiamo una riga proxy due punti la url dell'altro server che nel nostro caso sarà sempre localhost 30001 o porta che volete voi ma potrebbe anche essere il mio server.it non c'è problema e qui ci sono le regole per usare il proxy ma molte sono intuitive e il server di sviluppo di React risponderà direttamente alle richieste che gli interessano a lui quali sono? sono immagini fogli di stile eccetera che lui riconosce come suoi e se l'ader della richiesta HTTP è text HTML quindi se è text JSON sa già che non è roba sua e la manda via e negli altri casi per esempio se è application JSON cercherà di mandare la richiesta al proxy a quel punto il proxy dirà ok sì è roba mia ti rispondo no non è roba mia non ti rispondo se non è roba sua e non gli risponde o non sa dove mandarlo il proxy non è configurato e React il server di React risponderà con la pagina HTML di default per indicare che c'è un errore best practice noi l'abbiamo già fatto ma ci torna comodo qui evitiamo percorsi in conflitto nelle URL perché se il percorso è trovato nella cartella di React viene servito la server di React altrimenti è passato al proxy quindi se noi avessimo fatto per esempio una root in React che si chiamava Courses e avessimo avuto il server express con un API che si chiamava Courses in questa configurazione questa seconda non sarebbe mai stata chiamata perché sarebbe sempre stato chiamato o Courses di React oppure sarebbe stata restituita la pagina di default infatti noi cosa abbiamo fatto noi abbiamo detto sono API mettiamoci davanti API in questo modo in questo modo le due URL sono diverse perché questa sarà ovviamente necessitata da React perché ha la sua root l'altra API davanti non c'è una cosa in React che inizia con API e quindi la mando al server proxy che magari saprà gestirla e ricordate che qui le chiamate nel browser le facciamo tutte a se questa è localhost 3000 tutte a localhost 3000 sia quelle per React sia quelle per i server express di proxy perché il browser non sa che esiste questo secondo server qui c'è poi anche un modo per usare la stessa soluzione in modo produzione quindi non in modalità di sviluppo sempre utilizzando l'idea del proxy bisogna farlo in maniera diversa ma si può fare comunque la soluzione del proxy anche in modalità di sviluppo se si volesse non utilizzando il server di sviluppo di React quali sono gli errori comuni uno fare la richiesta nella fetch a un indirizzo diverso da quello del server React se per il server express quindi in ogni caso localhost 3000 se il server React è su localhost 3000 il browser non sa React diciamo così React che vedete nel browser non sa che esiste un altro server tranne il server che fornisce l'applicazione due ricordarsi di lanciare entrambi i server quindi npm start per lanciare React e nodemon server.js o quello che è per lanciare l'altro server poi React server ci pensa a dirottare le richieste da una parte all'altra ma se il secondo server non è partito non può fornire non può ovviamente contattarlo perché non non è disponibile e in produzione ovviamente e nelle fasi di deploy è ovviamente diverso e poi da qui in poi vedete scritto in maniera chiara se volete potete leggere gli altri due metodi che sono indicati lì vedete sono come lì esemplificati raccontati cosa funziona vantaggi svantaggi come si attiva course lato express eccetera eccetera quindi queste sono se volete leggerle voi ma lo ripeto ancora una volta questo non serve non lo utilizzeremo non ve lo chiederemo nel corso per l'esame o per altro però è buona cosa se lavorerete in React in futuro o in express o tutte e due sapere che queste alternative possono esistere e possono essere considerate questa soluzione non funziona in produzione o meglio l'idea della soluzione funziona quindi usare il proxy usare un server come proxy dell'altro è un'idea che si può utilizzare questa specifica soluzione di mettere questa riga nel package punto json con scritto proxy due punti l'indirizzo dell'altro server non funziona in produzione perché in produzione non si lancia tipicamente il server di React quello che lanciamo con npm start in modalità sviluppo quindi noi quando facciamo npm start il server parte di default in modalità sviluppo ma in produzione non lo lanceremmo in modalità sviluppo e se non è lanciato in modalità sviluppo questa riga anche se c'è viene ignorata e quindi è come se non ci fosse e quindi non funziona bisogna fare diversamente se si vuole mantenere la soluzione proxy diversamente per esempio in base al web server che si usa in produzione ok quindi adesso quello che farei è un quarto d'ora di pausa quindi riprendiamo alle 10 e 20 con il ciclo di vita di React quindi torniamo per un attimo a parlare principalmente o unicamente di React e del suo server senza pensare per un attimo che esista l'altro ok riprendiamo alle 10 e 20 circa se avete domande come solito potete comunque scrivere nella chat anche durante la pausa grazie a tutti grazie a tutti